Un bel regalo per i nostri telespettatori in vista anche delle giornate intense in rosa che attendono l'Abruzzo. Entriamo quindi gradualmente anche nella pagina sportiva se vogliamo, perché parliamo del block house, parliamo della tappa naturalmente del Giro d'Italia, ma parliamo della nostra montagna. Chi ama le montagne e chi è in studio con noi è sicuramente il carissimo Giampiero Di Federico che ci presenta. Benvenuto Giampiero, le nuove puntate di Montagne Amiche, la nostra produzione così bella e interessante che sono dedicate proprio al block house. Allora raccontaci questo progetto particolare nell'ambito di un ciclo fortunato di trasmissioni. Sì, la tappa del block house ci ha dato un po' l'assist a Montagne Amiche per fare una serie di immagini, vediamo che la tappa del block house è una tappa che è molto molto faticosa, perché sono 5.000 metri di dislivello, i ciclisti devono fare 5.000 metri di dislivello per poi il dislivello finale, fino al block house, che sono 13 km di salita molto forte. e ci ha dato l'assist appunto per fare una serie di immagini per dare modo al telespettatore di vedere cosa c'è attorno a questa tappa del block house, cosa c'è attorno alla strada che dovranno fare i ciclisti. Quindi ecco l'arrampicata sulla parete di Rocca Morice che è appena sotto la strada che percorreranno i ciclisti, l'eremo di Santo Spirito, siamo andati all'eremo di Santo Spirito con due metri di neve, abbiamo arrampicato appunto con tanta neve attorno, siamo stati anche fortunati perché abbiamo trovato tutta questa bella neve e quindi l'ambiente è diventato all'improvviso suggestivo. E siamo andati anche all'eremo di San Bartolomeo, là vicino, con un metro di neve. E insomma cerchiamo di far vedere, ecco poi lo sci, lo sci da Passo Lanciano, Mamma Rosa, la vetta del block house, cerchiamo di far vedere un po' tutto quello che c'è attorno a questa tappa. Questa sarà una prima parte di durata di 30 minuti, poi vi sarà una seconda parte che i telespettatori potranno vedere appena prima della tappa che sarà del 15 maggio. Allora, diamo intanto gli appuntamenti per vedere queste spettacolari immagini poi correddate anche dai racconti, dai suoni della tua straordinaria equip di cui parleremo tra poco. Lunedì 25 aprile, intanto alle ore 13, quindi a ora di pranzo, di un giorno di festa, davvero l'anteprima, diciamo l'aperitivo di questa bella puntata sul block house che poi proporremo anche in prima serata sabato 30 aprile alle ore 20 e 30, poi avremo appunto la seconda parte. Ecco, abbiamo visto delle immagini spettacolari, in particolare quella di una tua ascesa in solitaria, prima con gli sci e poi naturalmente con la roccia, il rapporto diretto con la roccia. Eccola qui, insomma, che è gran parte di questa puntata, praticamente una presa diretta di questa ascesa, ce la vuoi raccontare anche come tecnicamente e televisivamente è stata possibile realizzarla? Beh, c'era tanta neve sotto la parete, quindi siamo arrivati con poca fatica sotto la parete, ho dovuto spalare anche un po' sotto la parete e togliere un po' di neve, e ho tolto gli scarponi da sciarpinismo, ho messo le scarpette di arrampicata e niente. Poi la parete era molto bagnata, per cui bisognava, io parlo anche durante la puntata di acqua santiere, sono quei buchi che troviamo nella roccia piena di acqua, tipo, insomma, uguali a quelle che troviamo. Ecco, vediamo anche il tuo compagno di cordata. Tonino Di Caro che mi fa sicurezza, c'è tutta un po' l'equip di Montagne Amiche, c'è Tonino Di Caro, c'è Angelo Cocco, c'è Giustino Zuccarini, che sta facendo le riprese sia dal basso sia con il drone, e niente. Insomma, un'emozione davvero da non perdere. Vi ricordo su Rete8, grazie a Giampiero Di Federico e al suo straordinario staff. Allora, appuntamento e naturalmente poi ci risentiremo anche per vedere di avvicinarci ancora di più verso questa tappa spettacolare del nostro Abruzzo.